E allora è appena iniziata la dodicesima diretta live della SL Tessuti ci troviamo qui come al solito nel nostro showroom come puoi notare alle mie spalle sua maestra Etna dalla nostra finestra per dare così oggi un'idea di come poter scegliere scusate la telefonata in arrivo, ok di come poter scegliere quello che in un certo senso potrebbe essere il binario o bastone per la nostra porta finestra quindi in questa diretta in particolar modo ci occuperemo per quanto riguarda come calcolare la misura come capire effettivamente quale bastone è più adatto per il nostro stile sia esso classico, moderno o contemporaneo capiremo qual è la distanza perfetta che ci permette di ottenere comunque sia una valorizzazione per quanto riguarda il nostro bastone o piuttosto pensare a un binario e come eventualmente rilevare l'altezza perfetta per quanto riguarda poi la nostra tenda da fare su misura o nel caso tu sei capace di poter cucire quindi potresti anche essere consigliato da noi su alcuni trucchi che odoperiamo da qui da 20 anni a questa parte e come ho già anticipato ci troviamo alle nostre spalle sua maestà Etra e ci troviamo qui in provincia di Catania a Scordia esattamente in piazza per Santi Mattarella dove operiamo da 20 anni e da 10 anni siamo presenti sul web per così diciamo dare ai nostri stessi clienti a chi ci condatta attraverso il web lo stesso servizio che facciamo qui da oltre 20 anni ecco tra le novità come potuto notare nel titolo di questa diretta oggi parleremo in particolar modo di una nuova categoria nata in quest'ultima settimana per quanto riguarda proprio i binari e i bastoni che ci occuperemo in questa puntata e quindi capiremo anche le varie differenze e come potersi orientare quindi come stai notando qui ci troviamo con il nostro pc quindi un computer portatile che può avere chiunque a casa e diciamo che attraverso quella che è la categoria delle tende che poi faremo successivamente quando siamo per completare la puntata darò così un'idea di come poter scegliere l'eventuale bastone ma per ora concentriamoci per quanto riguarda i bastoni in generale quindi immaginiamo per un attimo che dietro alle nostre spalle ci troviamo ovviamente la nostra finestra che già abbiamo visto nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato delle tende a pannello e a rullo ma in questa puntata in particolar modo ci serve per avere proprio un'idea chiara innanzitutto di quanto distanziarsi di quanto distanziarsi dalla nostra finestra di quanto deve essere alto il bastone più o meno o se ci sono le altezze che ci permettono ovviamente di poter installare il nostro bastone o binario e allora intanto tengo a precisare che i prodotti che ti sto facendo vedere quindi che avrai modo che avrai modo di poter valutare nella nuova categoria sono bastoni ovviamente di qualità ecco non voglio ora precisare il discorso qualità 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 ma per intenderci non sono i bastoni blisterati quelli che si trovano all'interno delle scatoline non sono i bastoni estensibili non sono i bastoni di primo prezzo perché ahimè ok quelli fanno parte del fai da te dico sempre io peggio per te che ovviamente neanche il tempo che gli perdi per montare e via dicendo perché il prodotto comunque non ne garantisce una durata né nel tempo né nei pochi mesi se non accontentarsi di un prodotto comunque provvisorio che non è nei nostri articoli ovviamente perché noi ci rivolgiamo ad una clientela che vuole seriamente arredare la propria casa con delle tende che hanno comunque un suo pregio sia al tatto e che ovviamente la qualità ne ha una garanzia nel tempo perché questa ne garantisce quello che è soprattutto la convenienza ma adesso piano piano affronteremo questo tema quindi i bastoni che stiamo andando a vedere sono bastoni per robusti bastoni che ora avrai modo di farò vedere quindi quei bastoni che noi diciamo che questi ne vale la pena non solo valutarli ma una volta diciamo scelti e ne hanno una durata nel tempo che ovviamente non è indifferente rispetto ai prodotti quelli di primo prezzo in quanto noi non siamo il settore o per ovviamente nel farti perdere tempo a te né tantomeno lo vogliamo perdere tempo a noi e non siamo i prodotti quelli di primo prezzo del basso quindi detto questo iniziamo subito non voglio farti perdere tempo perché forse ne abbiamo perso magari abbastanza ecco qua tanto per darti così un'idea vedi questi che tu stai vedendo è un mini bastone quindi in miniatura per poterti fare così una rappresentazione in modo che tu hai un'idea di che caratteristica stiamo parlando e sto volendo partire volutamente da quello che è un supporto vedi da 25 cm quindi che permette una distanza e una robustezza per quanto riguarda dove troviamo i cassonetti i cassonetti dove in genere ci sono quelli dei ravvolgibili che generalmente possono uscire 12-13 cm e quindi abbiamo bisogno di un supporto non solo robusto quindi che tenga il bastone stesso ma che abbia comunque una distanza e che permette poi lo scorrimento dell'eventuale tende che non diciamo fa attrito con quello che è il cassonetto nel caso in cui non c'è il cassonetto non è un problema perché questo si può sempre accorciare a nostra misura e qui abbiamo vedi questo sarebbe un coprichiodo dove non ti fa vedere completamente diciamo i chiodi che vengono i chiodi in questo caso i tasselli o gli stoppi in alcune parti dell'Italia si chiamano comunque sarebbero i tasselli proprio quelli che si mettono nel muro che permettono l'arreso ovviamente del nostro bastone quindi come stavo dicendo si può accorciare questo se non abbiamo il cassonetto nel caso in cui abbiamo il cassonetto questo ci è comodo perché non abbiamo diciamo difficoltà per quanto riguarda la distanza che occorre per installare il nostro bastone come noti questo è un supporto doppio chiamato doppio perché permette di mettere un bastone davanti e un bastone davanti scusami e un bastone dietro ecco questo naturalmente in questo genere qua chi ha questo tipo di idee perché sta pensato di mettere magari delle calate nel bastone davanti e di mettere un telo intero nel bastone dietro anziché delle calate si può aggiungere anche la mantovana ma mettere calate e mantovana insieme si potrebbe si fare ma non avrebbe comunque un effetto pratico perché dal momento in cui vai a spostare le cadute la mantovana si direbbe quindi o le so le cadute o la sola mantovana in modo che l'altro bastone è diciamo solo indicato per quanto riguarda la raccolta e lo scorrimento del telo quello filtrante ecco generalmente i bastoni che diciamo vengono richiesti dai nostri clienti sia attraverso il web e sia diciamo attraverso il nostro showroom vanno ad un unico bastone quindi è raro diciamo che viene indicato questo doppio a meno che proprio il cliente ha questo tipo di idea ma se il cliente vuole magari non spendere eccessivamente perché un bastone doppio ovviamente ha il suo costo per ovvi motivi possiamo fare un solo bastone e dietro inserire quello che noi consigliamo un binario tradizionale d'accordo che comunque non viene visto ma ti permette di avere comunque un'estetica e un'idea completa per quanto riguarda sia le cadute e quindi il telo eventuale che vorresti mettere dietro e l'idea di avere i due teli cuciti insieme con le borche come generalmente si trovano magari nei prodotti già affatti confezionati e sono prodotti ripeto diciamo provvisori quindi che lasciano il tempo che trovano che rendono così esteticamente in quel momento durante la foto che vedi magari sulla copertina ma è che poi all'atto pratico ovviamente ti ritrovi comunque sempre due teli da poter spostare contemporaneamente che non rendono come dovrebbe essere quindi parlando di quello che è comunque un'installazione seria che ne vale la pena ecco su questa categoria che poi dopo ti mostro potrai valorizzare non solo questi modelli qua che sono solamente alcuni sia in acciaio in ottone in accia lucido satinato cromo in nickel quindi in ferro battuto ne vedrai ovviamente in legno quindi nella categoria diciamo è molto ampia dai binari piatti e tutto il resto e trovare anche questi bastoni come questo qua si può avere così in acciaio lucido ma si può avere anche in oro e come questo qua il nodo chiamato nodo vedi si può avere sia così in acciaio ma anche in oro ecco come calcolare quindi capire e dici Salvo ma io come faccio a capire che misura mi interessa per la mia porta finestra e allora è importante innanzitutto calcolare quella che è la larghezza quindi da telaio e telaio come generalmente si fa quindi tu immagina queste finestre che noi abbiamo qua dietro da telaio a telaio è un metro e venti cosa succede? generalmente quando ci sono gli spazi noi ci spostiamo circa 15-20 cm per lato cioè significa il supporto questo deve essere spostato dal telaio a destra e a sinistra dai 15-20 cm e se non c'è il cassonetto quindi se non c'è il cassonetto dal telaio sopra fino al soffitto ok si divide quella che è l'altezza in genere generalmente quando diciamo diciamo i nostri clienti l'altezza che è dal telaio fino al soffitto senza cassonetto può variare dai 40-50 cm quindi il bastone la sua installazione deve essere messa a metà perché perché se il bastone viene messo troppo alto si rischia di perdere l'effetto del bastone e avere un effetto di asta quello sai quello degli armati quando appendi gli indumenti quindi svalorizzeresti non solo quello che è il bastone non solo quello che è il bastone ma svalorizzeresti naturalmente quello che è la tenta stessa quindi nel caso in cui ti trovi il soffitto basso quindi c'è poco spazio non consigliamo noi di mettere il bastone con supporto vicino al soffitto perché darebbe quell'effetto come ti ho appena detto che sarebbe tipo l'asta quella degli armati nel caso invece che tu hai quindi gli spazi necessari quindi già noi la mettiamo a 20-25 cm sopra il telaio della porta se non c'è il cassonetto perché dal momento in cui invece c'è il cassonetto il cassonetto ci indica bene o male un'altezza che se non è troppo vicino al soffitto il cassonetto in quel caso basta sdarsi 5 cm dal cassonetto e poi installare in questo caso il tuo bastone quindi a questo punto abbiamo capito che per una finestra di un metro e venti quindi se ci spostiamo 15 cm per lato tanto per fare così un calcolo più tecnico abbiamo bisogno di un bastone di un metro e cinquanta un metro e sessanta perché un metro e sessanta in modo che una volta messi il supporto per non essere questo qua attaccato proprio al supporto che sembra blutto quindi come se va preciso preciso il bastone è importante noi consideriamo di farlo uscire almeno un 5 cm dopo il supporto questo perché ti permette in ogni modo di valorizzare quello che è il terminale come in questo caso ok e dare naturalmente lustro a quello che poi è l'anello che viene messo qua che è l'anello di fermo quello che ti permette di quando tu raccogli la tenda di non spostarsi la tenda quindi come abbiamo detto in una finestra di un metro e venti una porta finestra di un metro e venti abbiamo bisogno necessariamente di quello che è un bastone di un metro e sessanta con le rispettive ovviamente distanze quindi le altezze se non c'è il cassonetto abbiamo detto a metà tra il soffitto e il telaio della tua porta finestra se c'è il cassonetto ti alzi 5 cm dal cassonetto se il cassonetto non è a soffitto perché se il cassonetto si trova a soffitto escludi il bastone perché da parte nostra è sconsigliato in maniera diciamo seria proprio perché ci teniamo che tu abbia comunque un effetto fine e che non abbia un effetto ecco così improvvisato poi se tu l'hai già fatto se già te lo trovi montato non è la fine del mondo ok non ti preoccupare magari non te l'ha mai consigliato nessuno ti sei affidato al fai da te pazienza però devi sapere che nel caso in cui tu hai un cassonetto che già è vicino al soffitto appena puoi puoi mettere tranquillamente un binario che oggi ce n'è di diversi generi di questi piatti che si stanno utilizzando che ho avuto modo di poter proporre le scorse dirette quello piatto con la tricciona quello piatto con il wave ecco questi pur essendo piatti o quadri anche messi al soffitto rendono bene perché la tenda ovviamente parte da sotto mentre nel bastone se non si vede effettivamente l'estetica del bastone rischiamo di annullare e quindi svalorizzare non solo l'ambiente ma anche il bastone stesso ora quando devi andare a scegliere quello che è il bastone e il binario quindi supponiamo che tu nel tuo caso hai gli spazi necessari sia per quanto riguarda il bastone sia per quanto riguarda il binario però hai un dubbio sai salvo si stanno usando in questo momento il binario mi piacciono tantissimo mi piace quello modello Honda uno tra i più richiesti posso dire diciamo in questi ultimi anni e ancora sempre più i clienti lo richiedono ma abbiamo avuto anche delle richieste dove i clienti una volta che hanno contattato i nostri esperti attraverso whatsapp dalla consulenza è emerso che gli spazi non lo permettono l'installazione del bastone e in quel caso abbiamo consigliato il binario proprio perché il cassonetto si trovava all'altezza a filo muro e quindi per ovvia ragione come ho già spiegato il bastone non è consigliato e allora in quel caso abbiamo consigliato il binario nel caso invece dove il cliente ha il dubbio ma può mettere sia il bastone che il binario perché comunque gli spazi sono disponibili e allora in quel caso uno dei diciamo modi ecco dei trucchi per poter capire qual è il bastone che a te piace quindi per il tuo stile non deve essere abbinato alla tenda e non deve nemmeno il bastone o il binario che sia abbinato al colore delle pareti e allora dici a cosa lo abbiniamo lo dobbiamo abbinare a quelli che sono i nostri mobili perché il bastone il binario quelli estetici che sia il bastone di legno o piuttosto una fascia copri binario e vi dicendo devono essere abbinati a quello che è al mobile quindi in questo caso deve essere abbinati al colore della cucina e non al colore delle parete e non al colore della tenda deve essere abbinati al colore dell'armadio se siamo in camera da letto o al colore della cameretta quindi dell'armadio ecco perché questo perché il bastone viene coordinato quindi come pezzo fa parte dell'arredamento e non del momento il colore che si sta utilizzando quello che invece poi c'è il colore che si sta utilizzando lì ci possiamo ovviamente attenere a quelle che sono le eventuali pareti ok quindi il colore delle pareti quindi lì andiamo a giocare a valorizzare il colore delle pareti ma è importante ovviamente conoscere e quindi avere un coordinato direttamente i nostri bastoni con l'arredamento in modo che la tenda che sceglie adesso che si può portare col torto che può essere col beige che può essere con l'oro la puoi comunque cambiare nel tempo ma il bastone rimane per esempio coordinato questo che fa vedi acciaio e oro perché ti trovi nel tuo ambiente e delle maniglie che sono acciaio e oro o dei perfili che vanno sull'oro quindi piuttosto che sull'acciaio o c'hai l'armato color ciliegio e quindi lo abbini al color ciliegio ecco diciamo che in questo modo quello che tu nel tempo ovviamente perché stiamo parlando di bastoni che ne hanno una qualità quindi una durata nel tempo ed è qui che si risparmia se vogliamo proprio concentrarci sai salvo io voglio risparmiare ok sono d'accordo quindi una volta chiarito il discorso che il nostro bastone binario quel che sia quindi come sistema di scorrimento per le dente deve essere coordinato al nostro mobile non al colore delle parete o al colore della tenda come generalmente i clienti dicono sai salvo la tenda bianca che colore lo mettiamo il bastone non possiamo mettere diciamo quella che è la tenda bianca o abbinata al bastone perché il bastone va coordinato come detto proprio a quello che è diciamo il nostro arredamento ora detto questo uno diciamo dei consigli che diamo ai nostri clienti nel caso in cui per esempio è successo con un cliente che si salvo ok io ho l'armato col ciliegio ho avuto per dieci anni il ciliegio cosa mi consiglieresti e allora a questo punto visto che lo vuoi cambiare potresti già mettere un binario piatto satinato che ti permette di essere neutro e quindi un binario piatto satinato lo mettiamo dal classico al moderno al contemporaneo ma può mettere anche un bastone satinato che può avere comunque dei riferimenti che siano comunque sul contemporaneo come questo diciamo gioco così a fiore vedi che vedi che ti fa il lucido e il satinato puoi coordinare il satinato e il lucido come vedi in questo terminale qua come può essere anche tutto lucido ecco vedi questo modello qua questo lo coordiniamo noi se fosse in oro su uno stile quindi classico o contemporaneo ma se è in acciaio sia lucido che è satinato va bene quindi per un ambiente anche quello che sia moderno cosa succede a questo punto una volta diciamo avuto un'idea con i clienti quindi quelli che in un certo senso vengono scelti di più quelli che noi diciamo proponiamo di più e il cliente più propenso è il sistema a strappo a strappo significa che lo scorrimento avviene attraverso le mani i sistemi generalmente per quanto riguarda lo spostamento dei nostri bastoni sono due o a strappo o a corda ora un attimo ti faccio vedere il movimento a corda così per avere noi un'idea vedi vedi ecco qua questo sistema qua come stai notando vedi che qua ci troviamo la nostra corda quindi il nostro pendente ci siamo bene perfetto come puoi notare vedi sempre qui abbiamo diciamo un bastone in acciaio ecco che ci permette in qualche modo il sistema a corda in alcune aziende lo chiamano sistema a tiro a tiro perché diciamo tirando la corda vedi permette questo lo scorrimento della matrice perché non tutti sanno che gli anelli successivi sono tutti liberi che vengono a sua volta tirati dal momento in cui c'è l'arricciatura il movimento a corda o il sistema a tiro che sarebbe questo che vi ho fatto vedere io quindi ecco qua vedi come si ecco qua vedi si apre e si chiude quindi la tenda questo essendo quindi essendo quindi questa la matrice permette a questo punto lo spostamento degli altri anelli a sua volta verso diciamo quella che è la chiusura della nostra tenda o l'apertura quella della nostra tenda quindi abbiamo due anelli uniti con il sistema questo diciamo che ci permette di appendere la tenda e successivamente ci sono tutti gli altri anelli quindi puoi scegliere sia il sistema a corda e sia il sistema a strappo che è quello più venduto proprio perché è più pratico è più se così possiamo dirlo diciamo facilmente gestibile perché nella corda ricordiamo sempre che si può poi col tempo rovinare la corda e anche questi poi diventerebbero a strappo ma non è questo il problema perché comunque ci occupiamo anche di fare manutenzione sui bastoni quindi cambiare corde e quant'altro però su questi prodotti qua generalmente quelli che vendiamo di più raramente qualche cliente ci chiama quello diciamo a corde allora in quel caso noi diciamo la cliente chiamo di dare le soddisfazioni proprio perché la tenda non la voglio toccare con le mani e allora dice salvo questa che poi la tocchiamo con le mani la tenda no su questi esistono i frustini quindi quelle bacchette tradizionali che vengono appesi nel primo anello che ti permettono quindi lo scorrimento da far notare che questi anelli ok non sono gli anelli che generalmente troviamo nei bastoni normali quelli di primo prezzo che guarda mi avvicino un poco ti voglio far notare non so se si nota all'interno vedi c'è una sorta di gommina ok che è rivestita all'interno questo perché abbiamo questa gommina rivestita all'interno qual è il motivo perché qui c'è questa gommina perché dobbiamo evitare che un bastone di ovviamente che ha un costo che può variare sui 100 euro per avere così un'idea deve evitare non solo di cioè deve soprattutto scorrere sì bene ma soprattutto non deve essere rigato nel tempo ecco questa gommina all'interno protegge il nostro bastone mantenere mantenendolo sempre nel tempo bello elegante corposo e soprattutto di qualità ora quindi stai potendo notare che anche nelle piccolezze no come amava dirmi mia nonna quando magari acquistavo così un giubbottino una camicia una maglietta mi dice sempre fammela guardare dentro ma perché nonna dobbiamo guardare dentro perché se le definizioni che tu non vedi sono fatte bene vuol dire che tutto quello che vedi è fatto bene quindi per capire effettivamente i trucchi della nonna che ci hanno così lasciato e non è altro che un riferimento per avere così un'idea che un prodotto fatto bene si vede soprattutto in quelli che sono i particolari per esempio in questo terminale qua si preferisce mettere ovviamente la parte dell'abbitatura dalla parte sopra perché così una volta che viene montato dalla parte sotto lo vedi tutto bello pulito stessa cosa vale anche qui con la brucoletta con la chiave esagonale che permette sempre di essere nella parte sopra avere il nostro terminale bello pulito e dalla parte ovviamente che tu ti metti sopra vedi che sotto è bello pulito quindi esteticamente anche nelle parti quelle difficilmente visibili questi bastoni sono ben rifiniti ecco volendo parlare proprio di quello che è il vero risparmio quindi se noi vogliamo parlare di quello che è proprio sai effettivamente un bastone di questo può costare 300-150 euro poi a seconda ovviamente la qualità e il modello del terminale perché i bastoni per no male variano su questo sui terminali e considerando che abbiamo gli anelli che hanno il contorno quindi in cielo all'interno per non rigare il nostro tubo e scorrere bene quindi immaginiamo che un bastone medio costa sui 100 euro ora l'idea qual è che un bastone di questo genere qua come minimo ha una durata di 10 anni se dividi il costo per 10 anni stai spendendo 10 euro l'anno ora non per qualcosa giusto ma se compri il bastone sensibile che ti costa 15 euro e dopo 6 mesi sei punto e a capo guarda che in 10 anni ti sareste potuta acquistare un bastone della durata di 10 anni e poi dopo magari lo butti apposta quindi se vogliamo proprio parlare di quello che è la vera convenienza conviene sempre valutare un prodotto che ne ha comunque una durata nel tempo perché nascondersi dietro la scusa sai ho il bimbo piccolo sai e non mi interessa per ora perché devo fare delle cose provvisore però voglio spendere poco guarda capiamo noi ovviamente quelli che sono le varie richieste dei nostri clienti ma cerchiamo di darle comunque se la loro idea è signora se lei sta pensando di spendere per un bastone 10-15 euro deve sapere che solo il supporto costa 20 euro quindi ma loro il supporto pesa quando tutto il bastone è quello blisterato quello che generalmente troviamo nei grandi magazzini quello che troviamo comunque nei negozi fai da te che lasciano il tempo che trovano con supporti piccoli deboli e che non durano comunque 10 anni perché lasciano il tempo che trovano quindi non avrai mai comunque un prodotto degno e hai speso sì poco ma non stai facendo economia al contrario stai spendendo di più perché ti ritroverai sempre ad avere delle tente provvisorie delle tente non idonee delle tente che non rendono come tu pensi e che alla fine non sei soddisfatta perché consideriamo che arredare la propria casa e quindi arredarla con stile con gusto che abbia almeno una durata decennale e hai speso un totale per una tente completa che ne so 300 euro completa di anelli tubo e tutto in 10 anni stai spendendo 30 euro l'anno cioè stiamo parlando meno di 3 euro al mese ma hai un prodotto che ne vale la pena ecco noi con questo diciamo il tipo di ragionamento molto semplice ma della vera e propria economia cioè se io devo fare economia acquisto un maglioncino che mi dura 5, 6, 7 anni anziché acquistare un maglioncino che lo prendo 10 euro ma il prossimo anno lo posso buttare quindi la vera economia sta proprio nella qualità quindi scegliere la qualità affidarsi a dei professionisti se oggi in questo periodo in questo momento di crisi per tutti è uno dei trucchi delle strategie dove noi ci impegniamo e quindi a dare la giusta indicazione ai clienti a fare delle spese si ponderate ma che soprattutto nel tempo di ritrovi un prodotto di qualità un prodotto che non annerisce un prodotto che non si graffia gli anelli che sono ben resistenti considera che un anello di questo ben rifinito normale costa su 1,51 euro su un bastone di 2 metri vanno circa 20 anelli quindi solo gli anelli il costo è di 30 euro con attualmente le promozioni che puoi andare a controllare quindi nella nostra categoria quella che ora adesso io ti faccio vedere così completiamo questa puntata in bellezza dopo averti dato così bene o male degli aiuti degli spunti delle idee dove per farti bene o male chiara ecco come tu rilevare la tua larghezza nel caso in cui ti trovi una porta finestra come questa dietro alle mie spalle dove si vede il suo maestro Etna quindi abbiamo una finestra di un metro e venti e che generalmente è questa la larghezza può essere una porta finestra di un metro e quaranta ti distanzi 15 centimetri per lato e lì avrai un bastone di 170-160 che ti permette comunque di avere ovviamente un'ottima estetica perché almeno 15 centimetri spostandoti dal tuo diciamo telaio in modo che quando la tenda è chiusa o aperta lateralmente non si vede il telaio della porta se no sarebbe una cosa brutta ecco io ho cercato di darti così un'idea di come poter scegliere il bastone di come poterlo installare di come avere tu stessa diciamo quello che noi chiamiamo una vera e propria consulenza quello che facciamo con i nostri clienti ogni giorno quello che cerchiamo di dargli proprio il consiglio giusto perché ripetiamo noi non siamo dei venditori seriali del tipo diciamo come si trovano generalmente quello che ti vuole appioppiare subito il cliente al prezzo ecco noi tutta questa cosa qua tutta questa premura frenetica di appiopparti un prodotto di 10-15 euro del tipo dirti che il migliore in assoluto sarebbe naturalmente un'illusione fino a se stessa quindi siamo oggi tutti consapevoli che il prodotto il bastone o la tendina da 5 euro da 10 euro e il prodotto del bastone da 15 euro sono ovviamente prodotti che lasciano il tempo che trovano puoi trovarli nei centri commerciali puoi trovarli online ovunque ma dall'essere dei tessuti garantiamo quello che è soprattutto un prodotto che ne vale la pena un prodotto che una volta che l'hai ricevuto hai effettivamente sei fiera di ciò che tu hai acquistato e poterlo così ammirare con amici e parenti alle persone a te care quindi questo diciamo è un augurio che noi facciamo a tutti i nostri clienti che si rivolgono a noi nel poter scegliere quello che è sia il bastone ora con la nuova categoria che andiamo ora a vedere anzi dedichiamoci direttamente non so se si vede bene ecco qua vedi questo è il nostro computer portatile qui che teniamo nel nostro showroom ecco qua vedi mi avvicino di più così hai modo di poter vedere questa categoria cosa succede una volta che ecco qua vedi e clicchi diciamo su tende si apre una tendina e vai naturalmente a cliccare su quelli che binari e bastoni e tra parentesi vedi scritto promo promo perché troverai delle promozioni inerenti a quest'articolo qua che ti permetteranno in qualche modo ecco di farti un'idea di bastoni che ne vale la pena effettivamente a meno valutare andiamo a cliccare un attimo così ti completo questa diciamo puntata per darti così un'idea ecco bisogna aspettare perché ricordo sempre noi che in Italia abbiamo il massimo della fine online ok quindi sono tempi italiani va bene quindi i tempi italiani sono i tempi italiani quindi anche nella linea se non ci facciamo come dice mancare niente detto questo ecco qua vedi se noi andiamo a scorrere in basso possiamo andare a vedere quelli che sono vedi tutti gli altri bastoni ecco qua vedi ora ne entriamo magari in uno tanto per avere così un'idea scusami un attimo ok perfetto vedi per esempio possiamo andare sia in quello che potrebbe essere il bastone in questo caso in acciaio per esempio come quelli che abbiamo visto quindi bastone acciaio elegante lo trovi questo attualmente in promozione lo stiamo dando a 79 euro e 99 quindi parliamo di un prodotto di 120 euro attualmente scondato lo diamo a 70 qui hai sempre vedi l'ingrandimento che puoi farti tranquillamente attraverso vedi mettendo qui il cursore del mouse e ti aiuta a vedere i modelli che vengono proposti e poi da questo lato puoi scegliere quello che è naturalmente il terminale a te indicato e eventualmente inserirlo nel carrello e questo così tanto per darti un'idea per quanto riguarda il pc ma come già se sei una che ci segui da tempo sai che anche attraverso il tuo smartphone è lì che è la cosa diciamo bella innovativa unica forse che offriamo solo la SL tessuti online ai nostri clienti che puoi contattarci direttamente attraverso whatsapp e avere proprio una consulenza specializzata quindi una consulenza personalizzata per quelli che sono i tuoi dubbi vedere se effettivamente può andare questo bastone se anziché andare a scegliere quello che è invece un bastone se andare a scegliere un binario per esempio un binario piatto quindi a secondo le dimensioni che ti trovi tu nel tuo ambiente ecco è così in un modo diciamo semplice oggi con per carità cerchiamo ovviamente non tutti come si sono diti i mali vengono per nuocere non vediamo l'ora che finisca tutta sta situazione qua che ci sta tenendo un po' imprigionati ma in questa prigionia volontaria in questa prigionia involontaria imprevista cerchiamo di come si dice ecco metterci un po' così in gioco un po' tutti quindi dare un'occhiata diciamo sulle proposte darti tu un'idea e se valorizzare il binario se hai qualche dubbio puoi tranquillamente chiamare quelli che sono i nostri esperti specializzati che come ti ho fatto vedere nelle puntate precedenti dal momento in cui abbiamo la dimensione del nostro schermo quindi diventa quando quello di un di uno smartphone vedi qua in alto trovi i due simboli di whatsapp non so se si vede bene un attimo che prendi il telefonino che questo diciamo tu che mi segue bene o male sai che è una delle performance che mi piace fare in particolar modo ecco qua e come il tempo ovviamente sempre dobbiamo aspettare i nostri tempi tecnici ecco qua vedi attraverso il tuo smartphone facilmente poi un attimo togliamo il contro luce sembra al solito vediamo se riusci ecco qua ecco qua vedi qui come stanno dando ci sono questi pulsanti di whatsapp che ti permettono di condattarci direttamente parlare con i nostri esperti essere eseguita quindi non abbandonata darti bene o male un'idea ricevere un preventivo su misura calcolare quelle che sono le distanze capire se per te va bene il bastone o il binario datti il consiglio spassionato quindi non sentirti obbligata come se tu stai entrando in un negozio tradizionale oggi lo puoi fare questo attraverso il web quindi tranquillamente come ti ho fatto vedere già nelle altre puntate puoi valutare da vicino attraverso gli ingrandimenti sia la morbidezza del tessuto e in questo caso puoi valorizzare la qualità dei prodotti e poi una volta ricevuti così come ha fatto Esther dalla nostra ultima cliente Esther da Latina che salutiamo e gli mandiamo i nostri saluti dalla Sicilia e da sua maestà Etna quindi non dimentichiamoci che ci troviamo nella nostra finestra sua maestà Etna perché ci troviamo qui nella provincia di Catania quindi a Scordia in piazza per Santi Mattarella quindi chiudiamo questa puntata nel salutare tutti i clienti che in un certo senso ci contattano ogni giorno e salutiamo i clienti che stanno ricevendo le tente questa settimana come la signora Eva di Modena se vi ricordate la scorsa puntata l'abbiamo o diciamo salutare che le sue tente erano in laboratorio quindi in sartoria stavano lavorando ecco oggi dovrebbe ricevere le tente quindi tra domani e dopodomani ci attendiamo le foto che poi pubblicheremo salutiamo Esther di Latina che ha ha inviato una sua recensione con allegando ovviamente quelle che sono le tende che ha richiesto le tre tende per il proprio soggiorno quindi realizzate su misura per come lei li richiedeva ecco salutiamo anche la signora Domenica che sta ricevendo anche la sua arricciatura e che tutti coloro che ci contattano e tutti coloro che vogliono avere un'idea per il proprio ambiente in maniera seria soprattutto chiara veloce istantanea comoda da SL Tessuti ormai slogan devi conoscerlo se ci segui da tempo ma se ci segui da poco te lo ripeto scegli a questo punto scegli la tenda e il bastone obbinato più bello che vuoi su SL Tessuti punto it poi ecco da Scordia Piazza Persanti Mattarella dall SL Tessuti è tutto credo di non essermi dimenticato niente ti auguro una buona giornata un buon proseguimento nell'augurio ovviamente che tutta questa situazione paradossale ora da oltre un mese che viviamo un po' tutti e se ne vada quanto più presto quindi faceremo di tutto ovviamente facciamo di tutto per distarci e essere diciamo più impegnate alle cose che noi amiamo fare al di là ovviamente di tutte le polemiche perché se ci mettiamo dietro a ogni cane che passa quindi dobbiamo buttare una pietra a ogni cane che passa va a finire che poi ci stanchiamo e non buttiamo più le pietre quindi la pietra sarebbe la polemica così tanto per avere il cane che passa sarebbe quello che ovviamente è il momento quello che deve essere diciamo additato per la colpa o meno ma al di là di tutte le colpe auguriamo che sempre come sempre il buon Dio che ci guarda dall'assù dicendo do una mano a questi qua e auguriamo che tutto vada bene che quindi i nostri familiari e che i dottori che sono diciamo in prima linea va sempre un grande applauso da parte nostra delle stelle tessuti e proprio perché è il vero esercito quello che sta fronteggiando nella prima linea quello che è proprio un'emergenza nazionale inaspettata e io vi auguro un buon proseguimento ci vediamo alla prossima diretta dove ti anticipo che dal che sta per iniziare dalla promo aprile dal primo aprile e conoscerai quindi seguici perché conoscerai dal primo aprile e la promo aprile come accedere quali sono i vantaggi che ti possono interessare ci vediamo il prossimo venerdì il 3 aprile per parlare della nuova promozione più in voca del momento quindi dalla promo aprile dal primo aprile su questi schermi descriveremo poi bene o male come poter accedere quali sono i vantaggi nel caso in cui tu stai pensando di ricevere delle tende su misura a metraggio su misura da SL Tessuti e tutti Salvatore Maria Paolo Caruso ti auguro una buona serata e un buon proseguimento ci vediamo alla prossima puntata ciao e arrivederci grazie a tutti